siamo l'inter siamo l'inter cioè riassunto il riassunto di tutto è che noi siamo l'inter e le cose facili le cose semplici non sono per noi no 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 cosa fa vittoria te ne vai a più 5 dal milan resti lì dietro la lazio la lazio la roma che perde qualificazione in cascina no non esiste non esiste perché noi siamo l'inter e le cose bisogna complicarsi se no che divertimento c'è no se non ci complichiamo la vita scherziamo non scherziamo a partire da tutti a partire da tutti 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 a partire da tutti da tutti 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 e poi e poi spalletti e è fantastico è fantastico spalletti spalletti è fantastico perché comunque non lo so io non ho criticato o meglio c'è da criticare la scelta di non portare i cardi perché almeno in panchina portatelo non lo metti ma portatelo ma non è neanche questo che critico a spalletti però se tu non porti i cardi mi devi trovare una soluzione di gioco diversa in campo ok ti vuoi assumere la responsabilità di non portarti i cardi ok ok te la concedo te la concedo sei l'allenatore dell'inter te la concedo a ragione a ragione di logica per tutto quello che ha fatto i cardi ma non entriamo in questo te la concedo siamo d'accordo ok te l'ho concessa spalletti te l'ho concessa però mi devi dare un'idea di gioco diversa ma se tu alla squadra gli dai sempre lo stesso incipit quello di andare sulle fasce di crossare in mezzo dall'inizio alla fine della partita per 94 minuti l'incipit della gara e questo qua allora allora sei allora sei coglione e allora no scusami se scusami se dico questa cosa scusami mi scuso perché forse sono eccessivamente nervoso ma sei coglione e no e no e no e no e no e perché non si può scusami tu non hai né l'autare non hai né i cardi e mi fai giocare la squadra sempre in questo modo allora se sai che siamo limitati se sai che siamo limitati non mi puoi venire a dire in conferenza stampa no non lo porto perché non è in gruppo da tanto tempo con la squadra non sta bene non significa nulla perché stasera i cardi ti serviva anche se andava una all'ora per il gioco che hai dato alla squadra quello di crossare di metterla in mezzo i cardi ti serviva anche se era infortunato anche se era veramente infortunato quindi io non è che condanno il fatto che lui non l'abbia voluto portare però se poi mi ti impunti sempre con lo stesso disegno tattico se ti impugni ti intestardisci con lo stesso disegno tattico allora no e allora no e allora allora te le cerchi cioè te le cerchi allora devo iniziare a pensare veramente che quelli che ce l'hanno con te qualcosa c'è qualcosa c'è perché te le cerchi cioè te le cerchi cioè te le cerchi scusa e mi metti mi metti non mi metti giocatori di 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 sostanza in aria eh davvero un disegno diverso niente che poi con la con la Lazio che becca un sacco di gol che becca un sacco di gol tu gli vai a fare il gioco che a loro gli più sta bene quella di mettere i cross eh perché loro sono alti cioè loro ce li hanno i centimetri là dietro e la Lazio per via centrale becca un sacco di gol ma veramente un sacco però noi non sappiamo fare noi non sappiamo fare un 1-2 per via centrale vento non lo sappiamo fare perché comunque ti manca al di là del centrale lì davanti ti manca qualità centrocampo ed è sempre un discorso vecchio ed è sempre un discorso vecchio ti manca ti manca qualità centrocampo ti manca ti manca come il pane ti manca la qualità ti manca come il pane Brozovic che stasera lo potremmo ribattezzare Brodovic veramente un brodo proprio un brodino cioè 571.000 calci d'angolo battuti 571.000 calci d'angolo battuti uno buono no uno 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 buono no 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 tutti sul portiere o sul portiere o bassi sul primo palo o bassi dove c'è sempre il difensore della Lazio sempre o sul portiere o bassi e segnasi cioè l'ultimo nell'ultimo minuto te per per evitare la figuraccia di mettere la nocchia punta c'è che ha fatto che ha messo Gio Mario ho messo Gio Mario per evitare la figuraccia ha messo Vesino e Perisic i due i due centrali lì davanti per evitare la figuraccia di far entrare di nuovo la nocchia punta spalletti 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 d'Ambrosio vabbè che ne parliamo a fare stasera pure lui e devo devo menzionare il portiere devo menzionare Samir menzioniamo Samir perché se poi la partita è stata tenuta in vita nel secondo tempo dove abbiamo abbiamo reagito perché se c'è una cosa che salvo è l'animo comunque l'animo di questa squadra che almeno almeno è vivo almeno l'anima la forza la voglia cioè l'impegnarsi almeno questo l'ho visto almeno questo l'ho visto e devo dirlo quindi già già qualcosa questo mi fa sperare però quello che ti ha tenuto la partita in vita è Andano che è un santo oggi facevo il video oggi ha fatto il video Olsen Olsen migliore di Andano ma avete visto chi è Andano ma l'avete visto questo se non è il portiere più forte della serie a poco ci manca ma chi c'è più forte tu in serie ma stiamo scherzando questa è una bestia questo ci ha salvato il sedere ma tante di quelle volte ma tante di quelle volte che lasciamo stare che lasciamo stare dicevo salviamo l'anima di questa squadra e per il disegno tattico che gli ha dato il mister questo questo è il massimo che poteva fare l'ha fatto giocatori stasera hanno dato il massimo che poteva andare questo lo devo dire lo devo dire lo devo dire stasera la squadra ha dato il massimo per quello che poteva dare per il disegno tattico che gli ha dato il mister questo è il massimo non potevi andare di più questi sono i giocatori che hai cioè lo stesso Perisic Perisic si è impegnato non è che possiamo dire Perisic ma Perisic è scarso Perisic impegnandosi è questo Perisic Perisic è questo ed è scarso quindi non è che ce la possiamo prendere questo è Perisic quello che voi dicevate top player stasera Perisic ci ha dato il massimo e che ha fatto niente perché è scarso stop non è che c'è altro da aggiungere no no non si impegnano stasera Perisic ha corso come un dannato ma ti ha dimostrato che è scarso punto non è che c'è altro da da andare a parare da dire hanno dato il massimo ma questi siamo punto è un'altra cosa che devo dire è che questa squadra non ribalta mai il risultato questa squadra se se va sotto non ribalta mai il risultato e qualche qualcosa c'è che non va non ribalta mai il risultato che poi eravamo entrati bene in campo perché se avesse segnato screener io sono sicuro che forse l'avresti anche vinta però non è non è che puoi ragionare così sì ma se avesse segnato screener tutto cambiava quelli non si richiudevano dietro tu non prendevi quel gol troppo facile troppo facile troppo facile capitano le partite in cui vai sotto e quelle partite in cui vai sotto devi saper reagire noi no ma noi no ma non non perché stasera tu non hai avuto la forza non hai avuto il carattere no tu hai giocato poi tu hai provato a giocare ma la squadra queste col disegno tattico che gli ha dato il mister questo poteva andare questo tutti a criticare che è prima punta che ha fatto il massimo che poteva fare da prima punta anche anche lui tra i migliori in campi anche lui ha fatto il massimo quello che c'è stato di sbagliato è il disegno tattico il disegno tattico di questa gara male sbagliato punto zero se vuoi giocare così se vuoi giocare così allora te lo dovevi portare te lo dovevi portare la prima punta perché in questa gara serviva quella punta che avevi i centimetri quello serviva in questa gara se la volevi giocare così la punta che avevi i centimetri e tu per otto usaggini non te la sei voluta portare punto fatemi sapere cosa ne pensate voi laccate scrivete fate quello che vi pare un abbraccio da Neschi